Il Movimento 5 Stelle fa sapere che secondo il Presidente onorario della Suprema Corte di Cassazione, Ferdinando Imposimato, a cui il partito si era rivolto per una consulenza, il DDL presentato dai pentastellati per annullare la legge del 2012, che prevedeva di cancellare vitalizie, pensioni d'oro e restituire quanto ricevuto dai politici, è legittimo dal punto di vista costituzionale e può avere efficacia retroattiva, così dice Imposimato.